Ciao belli, bentornati sul punto di G, io sono il vostro G ed oggi parlerò di qualcosa che nell'ultima settimana mi ha fatto il sangue leggerissimamente amaro perché nell'ultima settimana ho visto tanta ipocrisia su YouTube per quanto riguarda un argomento che è praticamente sulla bocca di tutti e cioè stiamo parlando dell'FSR 3.0 di AMD e ovviamente anche del DLSS 3.5 di Nvidia se non sapete di cosa sto parlando o avete vissuto sotto un sasso fino ad oggi o comunque non mi informate troppo del mondo tech e soprattutto del mondo delle schede video ad ogni modo DLSS 3.5 e FSR 3.0 sono tecniche di upscaling adottate da rispettivamente AMD e Nvidia per quanto riguarda l'alleggerire il vostro gioco, farvi aumentare le prestazioni a determinate risoluzioni e andare a mettere una toppa a un problema che fondamentalmente i produttori di schede video e ovviamente la mega corporazione che c'è dietro ha creato. Nel 2017 Nvidia se n'è uscita con le RTX 2000 Perché RTX 2000 e non GTX 2000? Perché quella serie di schede grafiche era la prima ad avere una feature che avrebbe cambiato il mercato e che tuttora sta dettando le leggi per quanto riguarda la grafica dei giochi di PC e soprattutto come gli utenti acquistano determinati prodotti. La R sta per Ray, quindi Ray Tracing. Il Ray Tracing lo conosciamo tutti abbastanza bene. È quella tecnologia che in tempo reale calcola le riflessioni e le rifrazioni della luce così da dare al vostro videogioco un look più realistico, una luce effettivamente più, sapete, veritiera e darvi un senso di immersività maggiore. Una tecnologia fantastica che prima di essere implementata via software e via hardware soprattutto sulle schede video di Nvidia richiedeva una marea di potenza di calcolo per poter essere, sapete, espletata possiamo dire per poter essere displayed in game o comunque in progetti di lavoro. Ad ogni modo queste RTX 2000 avevano una componente hardware proprio dentro la scheda video gli RT Core che si sarebbero occupati soltanto del Ray Tracing. Fino a qua tutto bello, tutto figo se non che Nvidia ha cominciato a aumentare piano piano il prezzo delle proprie schede video con la scusa del eh guardate ma noi abbiamo il Ray Tracing fatto bene quindi è anche giusto che voi pagliate un po' la tecnologia e pagliate effettivamente gli sviluppi tecnologici e soprattutto di hardware che noi implementiamo sui nostri prodotti alla fine. Qual era però il problema di questo Ray Tracing? E qual è tuttora il problema del Ray Tracing? È che attivare questa impostazione praticamente dà un colpo alle performance molto molto grande nel senso con le prime iterazioni quindi con l'RTX 2000 ma anche l'RTX 3000 io da fiero possessore di un'RTX 3080 il Ray Tracing praticamente non lo attivo quasi mai il frame rate del gioco a cui state giocando praticamente cala drasticamente. Allora Nvidia che cosa ha pensato di fare? Dato che dobbiamo far capire alla gente che il Ray Tracing è importante che loro vogliono il Ray Tracing perché non sviluppiamo una tecnologia chiamata DLSS Deep Learning Super Sampling una tecnologia di upscaling che praticamente andava ad abbassare la risoluzione in game se ad esempio giocate in 4k e attivate il Ray Tracing e attivate il DLSS la risoluzione in game si abbasserà ovviamente però con qualche trucco appunto di Deep Learning voi riuscirete anche a non notare alcune differenze per quanto riguarda la qualità d'immagine. Fantastico, una tecnologia davvero degna di nota non capite male è un passo in avanti veramente importante per la grafica PC però poi tutto il mondo delle schede video praticamente ha cominciato a basare i propri prodotti su questa piccola feature che secondo me al giorno d'oggi è non necessaria. io ho fatto anche un video in cui credo non sbaglio l'annetto fa in cui andavo a comparare la grafica con il Ray Tracing attivo e il Ray Tracing disattivato sinceramente parlando al giorno d'oggi ci sono giochi che hanno già un graficone assurdo hanno davvero una fedeltà grafica davvero davvero enorme quindi attivare il Ray Tracing secondo me era decisamente non necessario specialmente dato l'abbassamento delle performance e l'utilizzo necessario del DLSS AMD ovviamente ha cominciato a seguire Nvidia perché AMD per quanto possa essere avanti rispetto ai propri competitor per quanto riguarda il lato CPU dal punto di vista delle schede video sappiamo benissimo che AMD non è che stia molto indietro ma comunque sta indietro ora nell'ultima settimana stanno spuntando come funghi i video dell'FSR 3.0 questa nuova tecnologia che non è mossa da componenti hardware nella scheda video ma è mossa via driver significa che se Nvidia reclude il suo DLSS 3.0 e il frame generator attenzione alle RTX 4000 io con la mia RTX 3000 non posso attivare il frame generator con AMD questa cosa è possibile qualità grafica migliore o peggiore input lag aumentato o non aumentato queste sono cose soggettive secondo me che l'utente deve andare a giudicare prima di poter dire effettivamente no questa feature mi piace questa feature non mi piace ma qual è il mio problema riguardo questa cosa? come ho detto la tecnologia in sé è qualcosa di strabiliante ma questo è il mio pensiero da quando effettivamente il ray tracing e il DLSS sono approdati sul mercato il problema qual è? il problema è che vedo un'enorme ipocrisia soprattutto su YouTube Italia YouTube Tech Italia perché sono usciti una marea di video in cui facevano vedere le comparison di questo FSR 3.0 di AMD le comparison con il DLSS 3.5 di Nvidia e sinceramente parlando ho visto molti colleghi ormai mi piace definirli colleghi con le virgolette che andavano a decantare l'enorme passo in avanti fatto da AMD e lo dico ancora una volta la tecnologia è fantastica il problema però nasce quando si pensa al perché è nata questa tecnologia e perché vi stanno facendo credere che a voi serva punto e basta quando invece non è così mi spiego meglio il DLSS è nato per ovviare a un problema che Nvidia stessa ha messo sul mercato attenzione se tu giochi su PC non dico che tu pretenda ma almeno chiedi di avere una risoluzione molto alta un frame rate molto alto e soprattutto chiedi che tu possa giocare a qualsiasi titolo presente sul mercato con una scheda video top di gamma senza stare là a preoccuparti troppo delle impostazioni grafiche impostazioni grafiche che racchiudono anche il ray tracing che si dà un aspetto diverso ai giochi ma che per essere giustificato deve essere usato in concomitanza con il DLSS ci tengo a parlare solamente delle schede video Nvidia perché sappiamo che AMD dal punto di vista del ray tracing diciamo sta molto dietro a Nvidia però stando dietro Nvidia AMD piano piano ha detto ma visto che la gente effettivamente è così affascinata da questa tecnologia del ray tracing facciamo sì che anche le nostre schede possano farlo ovviamente a livello software non a livello hardware noi non abbiamo degli RT Core sulle schede video però vogliamo fare pure noi software di upscaling da cui appunto l'FSR è l'ultima iterazione l'FSR 3.0 il mio problema qual è per arrivare al punto della situazione il mio problema è che durante la pandemia quando i prezzi cominciarono a schizzare alle stelle molte persone si buttarono contro il mercato delle schede video giustamente perché io stesso conosco persone personalmente che hanno acquistato un RTX 3070 dall'MSRP di 499 dollari o 520 euro circa che hanno acquistato questa scheda video a oltre 1400 euro con l'RTX 4000 Nvidia ha detto ma sapete che c'è voi comunque vi siete comprati schede video a prezzi esorbitanti noi il prezzo lo pompiamo ancora di più perché vanno meglio ovviamente nella serie precedente comunque le comprate quindi a noi non ce ne frega più di tanto giustamente perché questo è il loro lavoro il loro lavoro è vendere più prodotto possibile un esempio di questo è quando AMD ha lanciato sul mercato la sua RX 7800 XT e Nvidia ha abbassato il prezzo dell'RTX 4070 perché il prezzo del prodotto già di suo è alto poi Nvidia ci deve andare a lucrare sopra e ci mette quel 50 dollari quel 50 euro in più per poi andare ad abbassare il prezzo e rendere il prodotto più competitivo quando poi i competitor quindi AMD Intel nel caso ma non credo che Intel caccerà un prodotto paragonabile a una 4070 avrebbero messo poi sapete in vendita un prodotto simile dal prezzo un po' più accattivante magari con qualche prestazione in meno però sapete come funziona quindi Nvidia ha abbassato il prezzo di queste 4070 nell'ultima settimana come stavo dicendo all'inizio del video ho visto molti miei colleghi che hanno cominciato a esaltare in maniera massiccia il passo in avanti fatto da AMD col frame generator che permette di raddoppiare gli FPS in gioco l'input lag aumenta tantissimo il frame time cambia tantissimo però ragazzi giochiamo su PC ormai se non fai 120 FPS in 8K praticamente non sei nessuno il tuo PC lo puoi buttare quindi nulla io sono qui giusto per farvi aprire un secondo gli occhi sappiamo benissimo che dalla serie 3000 alla serie 4000 e dalla serie 6000 di AMD alla serie 7000 il salto prestazionale è stato veramente minimo dal punto di vista hardware perché appunto sia Nvidia sia AMD hanno cominciato a dire vabbè noi gli diamo giusto un poco 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 più di prestazioni un po' più di efficienza tanto poi via software possiamo comunque aumentare le prestazioni la gente se la beve comunque sorpresa sorpresa non dovrebbe essere assolutamente così quindi nulla nell'ultima settimana mi sono fatto veramente il sangue amaro perché ho visto persone che qualche mese fa cominciavano a dire no le RX costano tanto le RTX costano ancora di più aspetta però AMD e Nvidia hanno cacciato queste nuove tecnologie ma forse vale la pena acquistare una scheda video che costa oltre 1000 euro no vi dico la sincera e più spudorata verità comprare una scheda video che costa più di 1000 euro per giocare non ha senso ma seriamente non ha senso specialmente quando ci viene fatto il lavaggio del cervello riguardo ad alcune tecnologie che non abbiamo chiesto ma che alla fine siamo stati indottrinati nel desiderare sto parlando del raytracing vorrei in effetti aprire un dibattito educato senza insulti o senza niente nella sezione commenti perché la mia idea che è la stessa da circa ma ormai sei anni quando nel 2017 si è stata annunciata SRTX 2000 è che il raytracing non vale la pena per molti fattori fondamentalmente non è presente su molti giochi tutt'oggi effettivamente ci sono giochi che hanno il raytracing però boh ditemi voi se il raytracing è bello come quello di cyberpunk perché secondo me al giorno d'oggi cyberpunk ancora è l'unico gioco ad avere una componente raytracing degna di nota perché le prestazioni vanno comunque ad abbassarsi se giocate su una 4080 una 4090 una RX 6900 xtx e attivate un'impostazione di raytracing tutto quello che volete le prestazioni calano drasticamente le case produttrici di schede video quindi AMD Nvidia Intel no perché Intel fondamentalmente non può competere ad alcuni livelli marciano molto sul fatto che oh noi possiamo offrirvi il raytracing possiamo anche farvi pagare le schede un 150 200 euro barra dollari in più soprattutto questo è un appello ai colleghi tech che qualche tempo fa si sono battuti contro il sovrapprezzo dell'hardware e al giorno d'oggi stanno comunque sapete cambiando bandiera un po' come cambia il vento del tipo eh beh però questa tecnologia è effettivamente buona anche se compri una scheda che dovrebbe andare per il 2k e te la fanno pagare molto di più ti fa aumentare gli fps raga non funziona così non funziona assolutamente così basti vedere una cosa e cioè una rtx 3080 è l'equivalente più o meno di una rtx 4070 la scorsa generazione quindi il salto tra 2000 e 3000 una 2080 ti che quindi è più potente di una 2080 era l'equivalente di una 3070 invece tra gtx 900 e gtx 1000 una 980 ti era una 1070 fondamentalmente quindi ci rendiamo conto che questa cosa già l'ho detta molto tempo fa e in molti video e in molte live soprattutto lo scaling tra la generazione prima e la generazione dopo è andato totalmente a farsi fregare per essere gentili e il tutto è legittimato da questa nuova tecnologia da forse una base di utenti che acquista non tanto consapevolmente ma per il puro e semplice sfizio di avere più fps per avere qualche lucina più realistica io vorrei un attimo sapere la vostra perché credetemi è da una settimana che io sto rimuginando su questo argomento e personalmente parlando per come sono fatto io ho voluto aspettare di sbollentare un bel po' prima di far uscire questo video mi fa rabbia mi fa veramente rabbia io quando comprai una gt la mia prima gtx 970 io la pagai 330 euro e per me erano tanti quando acquistai la 3080 era in periodo di shortage tutto quello che volete io la pagai 1000 euro tondi tondi dissi porca miseria che spesa assurda al giorno d'oggi le rtx 4080 partono da fare un giro un pochettino su internet da molto più di 1000 euro volete una 4090 e preparatevi a sborsare circa 2000 euro non è proprio bello questo ritorno sempre al vecchio adagio se devi giocare comprati una console quindi sì sono abbastanza d'accordo da questo punto di vista noi però almeno io sono un creator sono uno youtuber un fotografo un videografo un videomaker quindi ho bisogno di alcune cose ma almeno so che non sono solamente relegate al gioco cosa che chi acquista una 4090 solo per giocare boh effettivamente nulla in contrario però credo che dovrebbe un attimo rivedere alcune priorità ecco specialmente se poi si vanta di giocare con una 4090 a risoluzione bassa ma va bene quelli sono altri discorsi ragazzi fatemi sapere la vostra davvero non è un video preparatissimo assolutamente non è un video con mega tagli mega montaggio era semplicemente un piccolo tra virgolette sfogo perché volevo in effetti capire la vostra e soprattutto la vostra riguardo queste nuove tecnologie che promettono di migliorare le prestazioni della vostra scheda video quando poi in realtà è semplicemente fuffa è un giochetto software grazie mille dell'attenzione e ci vediamo alla prossima sempre qui sul punto di G sempre qui col vostro G ciao